Torna a casa, Liz. Torna presto. No, no, HB. No, non questa volta. Non mi piace star qui, ma non ho attacchi da parecchi mesi. E sai una cosa? Sto imparando a controllarli. Sto scoprendo da dove arrivano. Per la prima volta in vita mia. Non ho paura. Credo sia il tuo taxi. La squadra balia. Senti, HB, questa è la mia occasione. Quindi se davvero mi vuoi bene... ...non devi tornare più. Sì. Io pure devo andare. ...ho da fare. Ehi, Red. Oddio, hai perso un sacco di sangue. Questo non è niente. Tu lo sai cosa mi uccide, no? Prendilo dall'altra parte. Ok. Dai, Red. Torniamoci nel caso. Andiamo. Qui c'è. Grazie a tutti.